Emergenza profughi siriani sono già un milione, potrebbero raddoppiare o triplicare fin dall'anno prossimo se il conflitto non sarà fermato. A lanciare l'allarme è l'alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite in visita ai campi di accoglienza allestiti in Turchia al confine con la Siria. In dicembre abbiamo avuto una media di 3.000 rifugiati al giorno, salita a 5.000 in gennaio, a 8.000 in febbraio. La generosità con cui vengono ospitati, accolti e protetti è qualcosa che la comunità internazionale dovrebbe riconoscere e sostenere. Il ritmo ora è di 10.000 siriani in fuga al giorno, a ingrossare le cifre stilate finora dalle Nazioni Unite. Solo nei campi profughi a tutt'oggi ci sono 400.000 siriani in Turchia, 300.000 in Giordania, 120.000 in Libano, 100.000 in Iraq. In patria intanto restano altri 4 milioni di persone che hanno bisogno di aiuto immediato, più di un miliardo di euro per sopravvivere fino all'estate.